Forse possiamo applicare le riflessioni di Guardini al nostro tempo, cercando di scoprire la mano di Dio negli eventi attuali. Così potremo forse riconoscere che Dio, nella sua sapienza, ha inviato a noi, nell'Europa ricca, l'affamato perché gli diamo da mangiare, l'assettato perché gli diamo da bere, il forestiero perché lo accogliamo, l'ignudo perché lo vestiamo. La storia poi lo dimostrerà. Se siamo un popolo, certamente lo accoglieremo come un nostro fratello. Se siamo solamente un gruppo di individui più o meno organizzati, saremo tentati di salvare innanzitutto la nostra pelle, ma non avremmo continuità. A 130 anni dalla nascita dei Romano Guarini, Papa Francesco ha espresso soddisfazione per l'opera dell'omonima fondazione, impegnata nella diffusione del pensiero del teologo in un dialogo polifonico con gli ambiti della politica, della cultura e della scienza. In particolare, il Pontefice ha richiamato il concetto di popolo di Romano Guarini, un unico armonico che nelle relazioni interpersonali tesse un'unità vivente con Dio. La santità, ha concluso Papa Bergoglio, è un'esistenza vissuta nella fede, capace di vedere che Dio è vicino agli uomini e tiene la loro vita tra le sue mani.